La comunità di Teglio è sotto sciocche per la scomparsa di Simone Valli. Il parroco, il paese, ora si stringa la sua famiglia. Il lutto, anche il mondo della scuola, per far luce sulla tragedia disposta all'autozia. Vaccinazioni senza prenotare per gli over 60, il personale scolastico e i giovani dai 12 ai 29 anni. La novità dibuttato oggi a Sondrio, ma riguarda tutti i centri vaccinali massivi della provincia. Grande successo per il concerto sui monti di Lanzada, all'alpeggio di Campagneda, a 2300 metri di quota, la celebre Sinfonia delle Alpi di Strauss, magistralmente eseguita dalla Roma Treorchestra. Buonasera e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Unica Sondrio. Oggi apriamo con la cronaca, con la tragedia di Simone Valli. Teglio in queste ore sta facendo quadrato attorno alla sua famiglia. È un giovane guardia caccia che domenica ha perso la vita sulle Orobie mentre era in servizio all'interno dell'azienda faunistico-venatoria Val Bondone e Malgina. La caduta in un dirupo gli è stata fatale. Sulle cause indagano i carabinieri di Teglio e i militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza sotto il coordinamento della procura di Sondrio. È stata disposta l'autopsia che dovrebbe svolgersi tra giovedì e venerdì. E in paese a Teglio queste sono ore difficili. Il nostro sentimento è quello di una comunità sconvolta, spiega il parroco Don Francesco Quadrio, segnata in pochi giorni da due tragedie. Prima l'incidente nel quale hanno perso la vita papà e figlia, domenica la scomparsa di Simone a soli 18 anni. Ragazzo, come i suoi cari lo descrivevano, molto vicino alle attività della parrocchia. Ora la comunità si avvicina a una famiglia così duramente colpita. Simone si era da poco diplomato all'Istituto Picchetti di Tirano. Un intenso messaggio di cordoglio è stato pubblicato su Facebook dal dirigente dell'ufficio scolastico di Sondrio, Fabio Molinari. E vaccinarsi senza prenotare oggi è possibile a Sondrio per gli over 60, per il personale scolastico, per i ragazzi tra i 12 e i 29 anni. A SST ha anche definito la nuova mappa dell'apertura dei centri vaccinali massivi. La campagna vaccinale ha spinto sull'acceleratore. Da oggi, infatti, gli ultra-sessantenni, il personale scolastico e i giovani tra i 12 e i 29 anni possono accedere liberamente e senza prenotazione ai centri vaccinali massivi. Queste categorie potranno scegliere il centro, indipendentemente dal luogo di residenza, il giorno e l'orario all'interno delle fasce di apertura già definite. I cittadini con più di 60 anni o che rientrano nel mondo della scuola dovranno presentarsi muniti solo dalla tessera sanitaria. Per quanto riguarda i minori, a SST precisa che i vaccini raccomandati a partire dai 12 anni sono BioNTech-Pfizer e Moderna. Potranno essere vaccinati solo i ragazzi che hanno già compiuto i 12 anni. Il ragione della somministrazione del vaccino dovrà presentarsi al centro vaccinale accompagnati da un genitore muniti del consenso informato, modulo che si può scaricare dal sito di Regione Lombardia o richiedere al centro da firmare davanti al medico vaccinatore, da uno dei genitori o dal tutore legale. Il genitore o tutore legale, precisa SST, dovrà dichiarare di aver informato l'altro genitore sulla vaccinazione del figlio. Già definita la mappa dell'apertura dei centri vaccinali massivi del mese di agosto. A Sondalo, al sesto padiglione del Morelli, vaccinazioni il 13 agosto dalle 8 alle 20, il 16 dalle 14 alle 20, il 18 agosto dalle 8 alle 19. A Villa di Tirano, presso il polifunzionale, si vaccinerà l'11 agosto dalle 8 alle 11, il 13 dalle 13 alle 16, il 16 agosto dalle 10 alle 13, il 18 agosto dalle 13 alle 16. A Sondrio, invece, presso la palestra dell'Istituto Quadro dei Simoni, si vaccina oggi fino alle 20, l'11, il 12, il 13 agosto dalle 13 alle 20, il 16 e il 18 agosto dalle 14 alle 20. A Morbegno, presso il polo fiaristico, vaccinazioni l'11 agosto dalle 13 alle 20, il 12 agosto dalle 11 alle 20, il 13 agosto dalle 14 alle 20, così come il 16 agosto. Il 18 agosto si vaccinerà invece dalle 8 alle 16. A Chiavenna, presso la palestra di Viale Manoggia, vaccinazioni il 13 agosto dalle 13 alle 20, il 16 agosto dalle 8 alle 15 e il 18 agosto dalle 11 alle 18. E un'altra tragedia la scorsa notte a Val di Sotto. Un ottantenne è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Tirano e i colleghi del reparto operativo del Comando Provinciale di Sondrio. Dai primi accertamenti il decesso dovrebbe essere legato a una caduta dalle scale. Si tratterebbe dunque di un incidente domestico. E' decisivo il taglio alla burocrazia per gli imprenditori e cittadini di Bormio e di Livigno. Grazie al nuovo servizio erogato dalla Camera di Commercio, tutte le pratiche potranno essere sbrigate in remoto, senza recarsi a sondrio, consentendo un importante risparmio di tempo e di denaro. Alleggerimento della burocrazia. Tutti ne parlano, pochi l'hanno visto davvero. E tra i pochi, Bormio e Livigno, protagonisti di una delle prime esperienze a livello nazionale, il rilascio del dispositivo di firma digitale. Concretamente significa che i cittadini e gli imprenditori dell'Alta Valle potranno presentare una domanda di contributo, accedere ai servizi della pubblica amministrazione, fra cui quelli camerali, estrarre gratuitamente la visura, il bilancio, oppure lo statuto della propria impresa dal registro imprese, firmare pratiche e documenti con valore legale e in modo equivalente alla tradizionale firma autografa apposta su carta. Il tutto senza recarsi fisicamente a sondrio. Quindi un risparmio di tempo e denaro per gli imprenditori dell'Alta Valle, che da soli costituiscono più del 50% delle imprese del settore turistico di tutta la provincia. E' un grande passo avanti per la Camera di Commercio di Sondrio e la comunità montana dell'Alta Valtellina, gli enti che hanno siglato l'accordo sul rilascio del dispositivo predisposto da Infocamere, società di informatica delle Camere di Commercio d'Italia, in linea con le normative nazionali. Loretta Cridaro, presidente camerale, inserisce l'iniziativa all'interno di un percorso più ampio. Con la pandemia abbiamo moltiplicato i nostri sforzi per alleggerire gli addempimenti burocratici richiesti agli imprenditori, rendendo accessibili molti i nostri servizi da remoto, fra i quali lo stesso rilascio della firma digitale. Intendiamo proseguire ulteriormente in questa direzione e auspico pertanto che nel prossimo futuro si formalizzino le condizioni per attivare nuove collaborazioni, sempre a vantaggio delle imprese. Le fa eco Filippo Compagnoni, presidente della comunità montana Alta Valtellina. È uno strumento ormai indispensabile ed abbiamo aderito convintamente da subito alla proposta di collaborazione offerta dalla Camera di Commercio. L'accesso al servizio avviene su appuntamento, da effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 tramite il centralino della comunità montana Alta Valtellina, numero 0342912311 o quello del comune di Lidigno, allo 0342991111. Una volta ottenute tutte le informazioni necessarie, basterà presentarsi nel giorno e orario concordati per ottenere il rilascio della firma digitale entro pochi minuti. Una stagione teatrale di alto livello, quella che si potrà seguire al sociale di Sondrio. Si parte il 18 settembre con l'opera di scena La madama Butterfly. Due date a ottobre per Giacomo Poretti, del celebre trio comico Aldo Giovanni e Giacomo. In sala si accederà con il Green Pass. A teatro col Green Pass l'anticipazione è stata data nel corso della presentazione ufficiale della nuova stagione teatrale di Sondrio. Al sociale i posti disponibili saranno 289, invariate le tariffe. Verranno rilasciati dei voucher per gli abbonati, buoni validi per gli spettacoli non andati in scena la passata stagione causa Covid. Al teatro sociale si accederà rispettando tutte quelle che sono le misure di sicurezza e mostrando anche il Green Pass come da normativa. Cercheremo di adottare appunto scanner o quelle applicazioni che possono permettere questo controllo con una certa velocità. Chiederemo anche la collaborazione ovviamente dei nostri spettatori perché se si presentano con un certo anticipo questo potrà essere fatto in maniera diciamo meno disagevole per tutti. Da infermiera d'attore di successo la storia di Giacomo Poretti del celebre trio comico formato con Aldo Giovanni il 19 e il 20 ottobre porterà in scena il suo spettacolo Chiedimi se sono di turno. Questo diciamo è uno spettacolo anche nutrito da questa sua esperienza oltre che dalle riflessioni che poi ha fatto dovute alla situazione in cui ci troviamo. è uno spettacolo che ha avuto un grandissimo gradimento e ci auguriamo che la stessa cosa avvenga per la nostra città. Abbiamo scelto due date in modo tale che tutti gli spettatori possano accedere e possano anche utilizzare i voucher che sarà possibile recuperare. L'apertura sarà a settembre il primo spettacolo. Certo il primo spettacolo sarà l'opera che aspettiamo ormai dalla stagione scorsa sarà il 18 settembre madama Butterfly con la direzione del nostro illustre concittadino il direttore Giovanni Mazza. A seguire recuperiamo anche lo spettacolo della Savaria che faceva parte di questo nostro cartellone del comune di Sondrio per quanto riguarda la musica. Poi avremo Furore con Massimo Populizio e poi avremo Regaro di Natale con la regia di un grande regista come Pupi Avati. Tornare lì a vedere un'emozione dal vivo è qualcosa che ti fa cambiare idea, ti fa riflettere oppure ti conferma magari qualche tua conoscenza arricchendola sicuramente di qualcosa. Essere insieme in una situazione di questo genere è un momento di crescita. Parliamo di teatro e parliamo di musica all'alpeggio Campanella di Lanzada sulle note della Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss ad esibirsi Roma Tre Orchestra un'iniziativa del Festival Le Altre Note Valtellina che ha richiamato un grande pubblico. Evento al quale abbiamo dedicato lo speciale in onda Stunica Lecco giovedì 12.45 Stunica Sondrio alle 18.50 Le repliche saranno venerdì alle 19.45 e sabato alle 20.50 Lanzada alla Val Malenco sono lieti di ospitare l'orchestra Roma Tre stiamo parlando di un'orchestra che è nata nel 2005 tra Roma e Lazio è un'orchestra importantissima che crede nell'eccellenza della grande musica siamo a Lanzada, siamo in Val Malenco siamo all'Alpe Campagneda sotto i piedi del Piso Scalino al centro delle Alpi. Il Valtellina Festival è molto felice di questa collaborazione con il Comune di Lanzada e siamo ovviamente anche altrettanto felici di questa prima volta per il Valtellina Festival all'alpeggio di Campagneda e proponiamo un programma bellissimo la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss niente di più appropriato con una grande orchestra la Roma Treorchestra diretta da Vsevolod Borzac un grande direttore ancorché giovane ma molto emergente e da guardare con grande attenzione Siamo qui in Valtellina al Festival Le Altre Note per suonare la Sinfonia delle Alpi di Richard Strauss è una composizione del 1915 di un colossale, di una grandezza, di un'immensità veramente senza proporzioni e siamo molto felici, molto onorati di essere qui Un evento per far conoscere alla gente l'ambiente, valorizzare il territorio e speriamo che anche porti a un rispetto per la montagna e mi auguro che comunque tutti si rendano conto di quello che c'è dietro al mantenimento del territorio e quello che una persona, comunque, un alpeggiatore fa Questo era il nostro ultimo servizio e vi ricordo di seguirci anche sui nostri social e su teleunica.com Buona serata